Buongiorno carissimi, bentrovati in questo 2 febbraio, festa della presentazione del Signore, comunemente chiamata Candelora. Io oserei dire che questa festa, oltre a chiamarla la presentazione del Signore, si riflettere un pochettino mettendoci altri due termini, ingresso e incontro, perché già dalla prima lettura tratta del libro del profeta Malachia, siamo al capitolo 2 versetti, capitolo 3, i primi 4 versetti, qui si parla di un messaggero che è mandato a preparare la via davanti al Signore e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Gesù entrerà nel suo tempio. Nel brano del Vangelo di oggi, capitolo 2 di Luca, versetti 22 e 40, Gesù viene presentato al Signore, Gesù entra nel tempio, c'è il vecchio vagliardo Simeone, poi si presenterà anche Anna. Simeone è mosso dallo Spirito Santo, riconosce Gesù uno strumento di salvezza, dice che è un segno di contraddizione, di divisione, che metterà in difficoltà anche la libertà, la libertà umana. Quindi questo ingresso di Gesù, come il profeta Malachia si parla di un ingresso, di una purificazione, di un sacerdozio di Levi che sarà purificato. Ecco allora, come riusciamo ben a comprendere, Gesù entra nel tempio di Gerusalemme e cosa c'è? C'è l'incontro fra la profezia, ciò che è presentato nella figura di Simeone, quindi l'antica alleanza, la realtà. Si potrebbe dire che la presentazione di Gesù al tempio è la prima veste ufficiale dell'incontro tra Dio e il suo popolo. Gesù viene identificato come luce per illuminare le genti. È la luce che illumina le genti. Allora, l'ingresso di Gesù nel tempio è l'incontro che c'è stato fra Simeone e Anna con il Signore, questo annuncio profetico di Simeone, soprattutto anche nel dire a Maria Vergine anche di questa maternità che è vissuta sì nella maternità di un Messia, ma anche del dolore che l'attenderà. Quindi la candela che noi accendiamo, ecco io la vorrei più che altro guardare con questo segno. Gesù è la luce delle genti. Vedete, questa è una casettina con dentro c'è una candela di giorno che si vede tantissimo. Ma il messaggio che vorrei donarmi e donarvi, se Gesù è la luce delle genti, la luce del pagano, Gesù è entrato nella mia vita realmente, ha illuminato la mia vita realmente, perché io posso essere cristiano anche per sentito dire, posso essere cristiano perché è abituato dalla mia famiglia, posso essere cristiano perché mi hanno indirizzato nella via della fede. Ma realmente quando è stato quell'incontro che mi ha visitato, quell'incontro che mi ha illuminato, Gesù è entrato nella mia casa, nella mia vita, ha illuminato il mio cuore, Gesù è la luce delle genti, è la luce della mia esistenza, è la forza anche del mio cammino. Allora ecco quando oggi, se parteciperete alla celebrazione eucaristica, riceverete quella candela e l'accenderete, ecco ricordiamoci quell'ingresso di Gesù nella mia vita e quell'incontro che è avvenuto. Ecco allora perché poi nella notte di Pasqua ci ripresenteremo di nuovo con una candela che verrà accesa e quella sarà la candela che ricorderà il nostro battesimo, quel momento iniziale di un incontro per noi forse inconsapevole, perché fosse ricevuto da piccolo con il Signore, ma che si è alimentato tempo nel tempo e poi ne è venuta consapevolezza per ciascuno di noi. Allora oggi vorrei che ognuno di noi riflettesse realmente quando il Signore è entrato nella mia casa e mi ha illuminato. Allora sì che la festa della candelora, questa candela che diventa la protagonista un po' della giornata, ecco mi dice tutt'altro. È una festa questa qui della presentazione del Signore cristologica, centriamo tutto su Gesù Cristo, non tanto su questa candela che può essere un segno, un richiamo, però ecco la cosa importante è proprio riflettere su quello che vi dicevo prima. Oggi è anche la festa della vita consacrata, per quale motivo? Perché quando il Signore è entrato nella vita, nel cuore di una persona che ha deciso di rispondere alla chiamata e consacrarsi totalmente al Signore è perché il suo cammino è stato illuminato dal Signore, da quella lampada che ha accolto nella sua vita e che sempre dirige il cammino. Allora preghiamo per tutti coloro che hanno consacrato al Signore la loro esistenza perché possano sempre di più rimanere fedeli alla chiamata che hanno ricevuto. Bene, auguro a ciascuno di voi una buona festa della presentazione del Signore, un ingresso e un incontro con il Dio della vita, luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele. Buona e santa giornata a ciascuno di voi.